L'Abruzzo aveva previsto tutto, ma non ha fatto nulla. La denuncia arriva da Augusto De Sanctis, ambientalista del Forum H2O, facendo leva sul piano regionale di prevenzione delle malattie, approvato nel 2015 e che tra i vari capitoli ne prevede uno dedicato alla gestione delle malattie infettive, partendo dalla pericolosità dimostrata dai dati su scala mondiale delle epidemie, tra le altre di sindromi riferibili a infezioni da coronavirus, alla MERS e alla prima SARS, quella del 2002. C'era il pericolo che virus analoghi facessero il salto di specie e di fronte ad una nuova pandemia la regione aveva messo nero su bianco quanto andava fatto. C'era piena consapevolezza dei rischi e nel piano regionale di prevenzione si dava anche un'indicazione di quello che bisognava fare, predisporre i percorsi separati negli ospedali, predisporre a fianco a ogni pronto soccorso negli ospedali abruzzesi delle camere a pressione negativa, la presa in carico degli ammalati sul territorio e quindi con la medicina territoriale e poi c'era anche la dare disponibilità ai sanitari, infermieri e medici dei dispositivi di protezione, dalle mascherine, ai gambari, ai camici e così via. Tutto ciò non è avvenuto. Nel 2016 la regione Abruzzo avrebbe dovuto dare ulteriore applicazione al piano di prevenzione, riapprovando un più specifico piano pandemico espressamente dedicato alla gestione della esplosione di una pandemia che la regione stessa aveva già messo in atto nel 2009 con l'allora giunta Chiodi. Le responsabilità della mancata applicazione di questo piano di regionali di prevenzione che ci avrebbe permesso di affrontare in maniera molto più organizzata questa emergenza. Sicuramente devono essere addebitate alla regione Abruzzo per non aver approvato entro il 2016 il piano più particolareggiato, eppure si era detto alle stesse di doverlo approvare e non lo ha fatto. Poi il piano regionale di prevenzione dava anche alle ASL tutta una serie di disposizioni per attuare le misure per prepararsi ad una pandemia. Peraltro già il piano regionale pandemico del 2009 dava specifiche indicazioni, ogni ASL doveva avere un responsabile pandemico, doveva avere un gruppo di lavoro per le pandemie, ovviamente disporre l'acquisto e l'uso dei dispositivi di sicurezza da parte degli operatori. Grazie a tutti.